Sweet Tooth è sicuramente la serie di punta di Netflix di questo giugno 2021. È uno spettacolo davvero incredibile da vedere, tratto da una serie di fumetti post-apocalittica con una promozione limitata. La serie ha avuto un grande successo e ora i fan vogliono senza dubbio conoscere il suo destino. Ci sarà una seconda stagione? Momentaneamente, essendo la serie uscita da pochi giorni, non c'è ancora nessuna conferma da parte di Netflix, ma speriamo che questo sia solo momentaneo e speriamo soprattutto che Netflix possa rinnovare la serie per non un'altra solamente, ma per 4 o 5 stagioni. Questo però è solo un'ipotesi e dobbiamo ovviamente aspettare delle conferme ufficiali. In base alla risposta della serie e al numero di persone che stanno guardando in questo momento Sweet Tooth, Netflix dovrebbe rinnovare la serie prodotta da Robert Downey Jr. Non abbiamo un numero ben preciso di episodi per la seconda stagione di Sweet Tooth, ma possiamo anticipare che, dopo aver visto la prima stagione, lo show sarà probabilmente composto da 8 episodi, proprio come la prima. Non essendo stata ancora confermata, le riprese della serie non sono ancora iniziate, ma pensiamo, se tutto dovesse andare per il meglio, che potrebbero iniziare a breve. Se lo show dovesse essere rinnovato e la produzione dovesse iniziare molto presto, la seconda stagione di Sweet Tooth è prevista per l'estate del 2022. Potremmo, però, vedere anche la nuova stagione verso l'inverno del 2022, oppure all'inizio del 2023, se le cose dovessero andare male. Per il momento, però, non ci resta che gustarci il primo ciclo di episodi e attendere conferme ufficiali da parte di Netflix.